Jingle Spot Agenzia del Mago Alberto In via Candia 141B Fantastico bonus di benvenuto Sull'apertura del vostro conto online Buongiorno Io voglio chiederti su Florenzi Perché l'impressione che si ha da fuori È che spesso il ragazzo venga Schierato più dove serve alla squadra Rispetto a dove potrebbe rendere al meglio Le chiedo se è una considerazione sbagliata Se questa sua disponibilità al sacrificio Lo rende ovviamente rispetto ai suoi compagni Un giocatore una sorta di jolly Se sarà questa ancora la sua veste anche nel prossimo anno Se seduto a tavolino Lei si immagina un ruolo definito per Florenzi Nella prossima stagione Io faccio così perché proprio non lo so Dove essere la migliore Non lo so Tu mi puoi esare Sì È meglio che sentano su Più vicino alla porta Esterno o alto In un 4-2-3-1 La mia umilissima opinione potrebbe forse rendere meglio Può darsi Può darsi Però lì in questo momento io ho posto di Esciaravi o di Salah Sì può darsi È una posizione dove ci ha fatto vedere Che sa stare Perché poi quando tu lo usi basso Sicuramente sotto l'aspetto difensivo Non è un difensore vero e proprio Però costringe l'altro a far cose a cui non è abituato Perché quando lo attacca con quella qualità lì Se non fa bene il difensore l'altro e ti dà un contributo Poi davanti Perché ti viene a sommare quello che fa Salah davanti O a dargli qualche numero in più a quello che fa Salah Non è solo Salah Ma è Salah più Florenzi che ti arriva da quella parte lì Poi è uno che può giocare da molte parti Secondo me è un merito Questo qui è una qualità Serve alla squadra Un'altra cosa di cui ne va tenuto di conto Dove serve alla squadra Perché poi bisogna cercare di far quadrare Quello che è il gioco di squadra Quella che è la forza della squadra Ecco, allora se riesci a far essere più forte un 11 Che non 11 singoli calciatori forti Si arriva un po' più in là E di strada ne abbiamo fatta Per cui tutto sommato I fatti dicono che tantissimo non abbiamo sbagliato Poi però ci può essere anche Di fare ancora meglio E ci guarderemo Ma Florenzi veramente Per me non perché Non è bravo in questo Non è bravo in quell'altro Per me Per quello che sa fare bene qui Per quello che sa fare bene lì Per quello che sa fare bene di là E' uno da poter tenere in considerazione Per Tre ruoli Perché Li sa fare In maniera eccellente Tutti e tre Grazie Quali sono? Basso, alto e centrocampista Va bene? Grazie www.pronosticonline.com Tutti i venerdì in esclusiva I pronostici del Mago Alberto Inoltre Help Serie A Help Premier League Help Liga Help Bundesliga Tutte le curiosità Le statistiche I precedenti E i consigli dei nostri esperti Partita per partita Per passare alla cassa Su pronosticonline.com Trovate anche i consigli Per il fantacalcio Di Emiliano Donati Pronosticonline.com Vi ricorda Che scommettere E' vietato Ai minori Di 18 anni Scommettete sempre Responsabilmente E' vietato Grazie.